Il popolizio allo Streller in furore fino a domenica 20 giugno, il paragone con i migranti climatici è molto forte, o sbaglio? No, è molto forte, però lo spettacolo non strizza l'occhio all'attualità e alla cronaca, grazie a Dio. Non metto foto di Lampedusa, però è un popolo che parte all'est dell'America, o Clomar Karsas per arrivare a una terra promessa, si chiama California. Non sarà una terra promessa, questo viaggio è una specie di epopea, è un'odissea. E' curioso, se vuoi trovare un aggancio, questa gente parte dalla polvere e a un certo punto rischia di annegare nelle alluvioni, per queste alluvioni. Non è tanto l'ombra, non è così differente da chi parte dall'Africa e rischia di annegare nell'acqua dal Marocco, rischia a nuoto di annegare nell'acqua. Solo questo. È molto di più, è molto complesso lo spettacolo e spero... È molto emozionante e molto di più dobbiamo venire a teatro a vederla. Ciao.